Beh, intanto buon lunedì, buon nuovo inizio di settimana, ben ritrovati sul canale. Oggi vigilia di campionato e come vi dicevamo nel video di ieri è abbastanza singolare, bizzarro perlomeno prepararci il lunedì per una partita del martedì di Serie A della Juventus, ma questo è. E quindi abbiamo la conferenza stampa di Massimiliano Allegri da analizzare, commentare. Non me l'aspettavo perché si apre con un comunicato da parte di Allegri che dice domani è l'ultima telecronaca di Enrico Zambruno dopo 14 anni in bocca al lupo per la prossima avventura. Cavolo, io ho avuto il piacere di conoscere Enrico durante questi anni, persona seria, persona preparata e assolutamente rispettabile. E mi dispiace tanto sapere che non sarà più la voce della telecronaca bianconera, una voce che associo per forza di cose ricordi bellissimi e gol bellissimi, anche se non sono state viste in presa diretta magari quelle partite, ma sono state riproposte nei vari allies, nei vari montaggi, la voce di Enrico ci ha accompagnato veramente per tanti tanti anni. Non sapevo di questo suo allontanamento dall'avvento, di questo suo cambio probabilmente professionale, quindi grosso in bocca al lupo, lo faccio anch'io, mi dispiace, mi dispiace tanto perché davvero era diventato una sorta di entità bianconera. Il derby è una stracittadina, è importante per loro e per noi, per noi soprattutto, perché dobbiamo continuare la scalata. Il Bologna ha battuto l'Inter e dobbiamo riagguantarlo. Abbiamo fatto 47 punti in campionato, dobbiamo incrementare. Torrini è una squadra preparata, con buone qualità, molto aggressiva. Allora, Legri continua sulla falsa riga, ma questa cosa non mi stupisce perché questa è la linea comunicativa intrapresa, ormai da quando c'è stata la sentenza in poi, è un ritornello che viene riproposto all'interno delle nostre orecchie, è una risposta anche a domande differenti, ormai lo sappiamo bene. Se un giornalista fa una domanda di un certo tipo, poi la risposta è quella. C'è il Bologna, passa il tiro una volta, addirittura Bologna ha battuto l'Inter, quindi dobbiamo riacciuffarlo. Ovviamente la Juve non deve fare il campionato sul Bologna, non è questa la morale, secondo me, che deve venire fuori da questa storia, ma è la volontà di Legri di tenere i piedi per terra e lasciare la squadra concentrata unicamente sulla partita di domani, che al massimo ci può regalare il pari punti con il Bologna. E ovviamente lo stesso ritornello anche qua della partita difficile contro una squadra con buone qualità, una squadra aggressiva. Poi ci torneremo un po' su questa cosa, perché c'è stata una domanda alla quale poi Allegri ha risposto in maniera simile. Chiesa ha fatto allenamento con la squadra dopo sei giorni di allenamento a parte e di riposo. Devo ancora decidere, ma difficilmente partirà dall'inizio. I giocatori che entrano da inattività vanno gestiti, ha pagato gli impegni con Fiorentina e Nantes. Ora sta bene, quindi tradotto. Chiesa domani convocato, dal primo minuto difficile, probabilmente non se ne parla. Poi magari ci sarà una sorta di sorpresa, ma sarei abbastanza stupito, devo dire la verità, di vedere Chiesa dal primo minuto, però sicuramente va in panchina. Bonucci sta meglio e sono contento. Ha ripreso confidenza con il campo a Spezia in Francia, ha passato un lungo periodo di inattività e sta bene, ma domani sarà in panchina. Riaverlo importante per tante partite da giocare da quella fine è il capitano della Juventus. Quindi un po' di bastone e carota, tra virgolette, perché non è stata una vera e propria bastonata. La carota è il capitano della Juventus, il bastone è sì, però domani viene in panchina. Più avanti sicuramente tornerà utile. Pogba? Pogba sta meglio, domani è convocato. Se c'è bisogno lo metteremo dentro. Non ha un minutaggio altissimo, ma un buon minutaggio. Sto controllando, perché devo capire in che anno siamo, se siamo ancora nell'universo nel quale Pogba praticamente a marzo ha fatto zero minuti, è ancora questo universo, siamo nel 2023, no? Perché potrebbero esserci delle complicazioni. Sembra troppo bello per essere, datevi un pizzicotto, devo svegliarmi. Pogba è disponibile, Pogba ha addirittura un buon minutaggio, Pogba potrebbe entrare domani, quindi domani potrebbe essere il giorno dell'esordio bis di Pogba con la Juventus. Non so se mi fido, non so se mi fido, perché col Monza era convocato, col Monza si era scaldato, col Monza me lo aspettavo in campo, ha fatto zero minuti, è poi ricaduto e poi è stato fuori. Quindi, ottima notizia il fatto che domani sia convocato, ottima notizia che Allegri lo consideri già come potenziale sostituto subentrante e vada a dire buon minutaggio, ma io finché non lo vedo in campo non ci credo e anche dovessi vederlo in campo domani, poi ci vado con i piedi di piombissimo, perché non significa che poi sarà a disposizione quella dopo. Keep calm. Se Allegri dice un passettino alla volta su queste cose, io dico ancora un micro passettino alla volta su Pogba, un micro passettino alla volta. Perché lo sto aspettando? Perché è sicuramente un recupero importante, perché sicuramente c'è mancato, anche numericamente, non solo qualitativamente. Poi qualitativamente io credo che Pogba in Serie A non si possa discutere. Ma calma, perché non... Io, io, finché, io faccio, guardate, come San Pietro, era San Pietro, no, è Sant'Ommaso, non ci credo finché non ci mette il naso. Io devo vederlo. Se non vedo, non credo. Diffidenza totale in questo momento. Proprio livello allucinante. E poi gli chiedono, ma a livello tattico il Torino com'è? E qua si vede che Allegri ha un po' sbiascicato perché non si aspettava questa domanda, perché solitamente non gli fanno queste domande. Infatti ha detto, beh, il Torino è una squadra di Juric e le squadre di Juric sono specifiche nel giocare. Vuol dire un po' tutto e niente. Aggrediscono tanto, attaccano tanto, danno pressione, sono partite ad alta intensità. Dobbiamo essere bravi a calarci nella partita. Non serve andare in campo in punta di piedi. La nostra forza è quella dei piccoli obiettivi, serve raggiungere Bologna, torino permettendovi. Quello che dicevo prima, anche quando non c'entra niente, trac, ributtiamoci il discorsino nel Bologna, cerchiamo di dare quella... All'Allegri non piace parlare in conferenza stampa di quelle che sono le strategie che andrà ad attuare o di quelle che sono le analisi delle squadre. Sappiamo, solitamente quando parli una squadra avversaria ci sono solite tre cose, partita difficile, squadra complicata, allenatore a tosto, bla bla bla. Queste sono le cose che vuol dire Allegri in conferenza stampa, che vuole dire, perché queste sono le cose che vuole dire Allegri in conferenza stampa. A questo punto, e già la seconda volta che parla di aggressività, di pressione e intensità, mi viene a dire che la Juve potrebbe andare a fare una partita intensa, una partita uomo su uomo, come le abbiamo visto fare anche l'anno scorso in alcune circostanze. Quest'anno un po' meno, devo dire la verità. L'anno scorso ogni tanto le abbiamo visto fare. Quest'anno una partita simile a Talanta, 3-3. Quindi vediamo se sarà davvero una roba del genere, perché queste risposte sbiascicate tra le righe di Allegri mi fanno intendere che questa può essere una delle opzioni per affrontare la partita domani. Dujan sta bene. Ora, a parte Milik che rinantrerà dopo la sosta, Caio e Locatelli squalificato stanno tutti bene. Io mi immagino a casa il povero Miretti in un angolino che piange perché Allegri non l'ha citato. Ora bisogna essere tutti pronti. Quindi Torino è stata sporca all'andata, ma è complicato giocarci contro, l'abbiamo visto anche contro il Milan. Dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte. Anche questa è un po' una solita di Allegri gli episodi dalla nostra parte, è un suo mantra. Questa partita ha il valore che deve avere. La classifica dentro al campo serve per fare i punti per rimanere nelle prime quattro. Il meno 15 non è roba nostra. La squadra ha fatto 47 punti, 49 considerando quelli con la saranitana perché la partita era già finita. Momentaneamente siamo nelle prime quattro con una partita in meno. Lo ripeto fino alla noia. Abbiamo fallito in Champions. Perché abbiamo sbagliato la qualificazione, ma dobbiamo accettare che può succedere. Strano perché era diversa, Allegri era andato sulla linea del non è un fallimento, no? Adesso dice abbiamo fallito in Champions. Bizzarro, bizzarro. Poi dice Miretti torna dopo Torino. E qua Miretti che a casa invece prima piangeva, adesso sta facendo i salti di gioia perché Allegri si è ricordato di lui. E poi aggiunge, e qua è un po', devo dire la verità, non mi ha sorpreso sentirli dire queste cose, anzi le ho trovate abbastanza logiche perché Allegri, è quello che dicevo prima, Allegri dice Pogba è 315 giorni che non gioca, non che non viene convocato, che non gioca. Quindi non può essere considerato un giocatore titolare della Juventus ad oggi. E questo credo che si faccia parte della più banale ovvietà, cioè quasi dire l'acqua è bagnata, il cielo è azzurro, queste cose qui. Perché se tu sei stato fermo così tanto, non può essere un titolare, la titolarità te la devi guadagnare sul campo. Ma perché non può essere pronto, non perché sei scarso, sei brutto, no. Perché te la devi guadagnare. Perché in questo momento non può essere atleticamente a livello di quegli altri. Chiesa che recupera e si ferma di nuovo non è il chiesa che dà continuità. È normale, i giocatori devono recuperare, non vanno ancora alla loro velocità. Serve farli crescere in condizione e farli arrivare in condizione. Io non so nemmeno se Pogba entrerà in condizione da qui alla fine dell'anno. Perché mi aspetto altri stop. E questo è il problema, mi aspetto altri stop. Perché a questo punto non posso fare altro che aspettarmi altri stop. Ne abbiamo visti anche la parte di chiesa, li vedremo anche la parte di Pogba. Ve lo dico già adesso così ci mettiamo l'anima in pace. Io da Paul ci parlo, come con tutti. Lui deve capire che ha un pezzo di stagione importante per rimettersi in carreggiata. Deve fare un buon finale di stagione e deve darci una mano. Vero. Paredes, oh eccoci qua. Leandro ha alternato buone prestazioni ed altre meno buone. Ha giocato molto tra campionato, 15 presenze, Champions, Coppa Italia e Europa League con due apparizioni di cui una da titolare. È un giocatore molto importante per noi, come tutti, da qui alla fine dovrebbe dare una mano a raggiungere gli obiettivi. Non mi ricordavo Paredes titolare in Europa League. Dovrei controllarla. Ah sì, è l'andata. Ok. Dovrebbe essere l'andata, se ben ricordo. Sì, io queste buone prestazioni a parte di Paredes non le vedo, ma di questo ho già parlato tante volte l'ultima volta ieri. Quindi direi di non perderci ulteriore tempo. Vlaovic sabato con Dujan, perché c'era veramente a porte aperte. Dujan l'avete visto a porte aperte, ma solitamente quello è il lavoro dello staff che viene effettuato anche con altri calciatori. Dujan ha tutto il tempo per migliorare. Nella mia carriera ho visto tanti esempi. Chiellini a fine carriera aveva un mancino delizioso con cui poteva calciare a 40 metri perché veniva al campo e sapeva voler migliorare in quel fondamentale. Ora, sapete bene quanto bene voglia a Giorgio Chiellini, quanto sia affezionato a Giorgio Chiellini. Ho pianto il giorno del suo addio ed è stato un vero e proprio simbolo per la Juventus. A definire delizioso il mancino di Chiellini, secondo me, di acqua sotto i ponti, ne passa abbastanza. Mi è sembrato un po' un riconoscimento eccessivo a quella che è stata la carriera di Chiellini, dove ci sono stati tantissimi successi, tantissime cose positive. Mancino delizioso, io proprio non me la sento di dare ragionata a lei. Chiellini, mancino delizioso, non me la sento e non me la sentirò mai, ripeto, con tutto il bene e l'affetto che posso volere a Giorgio. Mio ipote mi ha messo in guardia, dice Allegri. Vincere è sempre difficile. Quando si vince è bello e straordinario e va vissuto nel migliore dei modi, ma la partita di domani sarà difficile e combattuta. Abbiamo rispetto per un torino organizzato, grazie a quello che dà l'allenatore e di buona qualità. Avete già sentita questa storia? Sì, perché l'abbiamo già detta mille volte in tutte le conferenze stampa, lo sappiamo. La squadra oggi ha superato il meno 15, immagino intenda a livello psicologico. Dopo Atalanta e post-Napoli c'è stata la sanzione. Con l'Atalanta abbiamo avuto una reazione, con il Monza abbiamo avuto un rimbalzo verso il basso. Poi la squadra si è assestata. Tenetevi forte perché adesso dice una cosa a Ligri che non vi immaginate. Il nostro primo obiettivo è il Bologna. Ragazzi, cosa vi devo dire? Poi non dobbiamo perdere certezza perché siamo una squadra da 47 punti. Io spero che finisca il prima possibile questa storia delle sentenze. Non solo per le sentenze, ma perché davvero sentire sempre questo ritornello. Conferenza stampa dopo conferenza stampa. E l'unica differenza è il numero di punti conquistati. E la squadra su quale fare il passettino, dopo un po' sta anche io capisco che sia la linea comunicativa strategica della società di Allegri, dei giocatori. Non so chi l'abbia deciso, probabilmente il settore comunicativo della Juventus. Ed è giustissimo che sia così, però diventa pesante. Se ogni volta, ogni conferenza, ogni domanda, anche dove non viene richiesto, c'è sempre... Io capisco che lo puoi dire una volta in una conferenza, ma se lo dici tre volte su dieci domande, un terzo di conferenza passata ribadire questo concetto, diventa stancante. Diventa stancante nei confronti di chi ti fa la domanda che non ottiene la risposta e nei confronti di chi ascolta la conferenza, che si sente ribadire sempre un concetto... La settimana scorsa Allegri diceva, quando il mio allenatore mi diceva una roba, una volta, e me la diceva la seconda, diceva ho capito, ho già capito, non devi ripeterla. È quello che mi sento di dire io in questo momento. Perché un essere umano lo pensa, è normale che lo pensi. E anche Allegri lo pensa, lo sa benissimo anche lui. Come quando diceva, non è un fallimento essere uscito da Champions. Non è vero, lo sa anche lui e te lo dice mesi dopo. Come adesso lo sa, che è una rottura di palle ripetere sta roba, ma la ripete lo stesso perché questa è la strategia che è stata scelta. Quindi, questo è. Noi come gruppo di lavoro sappiamo che dobbiamo arrivare a fine stagione con i punti che consentono di arrivare nelle prime quattro, al netto delle sanzioni, di quello che è successo e di quello che succederà. Perché io non lo so cosa succederà. Abbiamo una semifinale di Coppa Italia a giocare, un ottavo di Europa League, contro una delle prime quattro in Germania. Più andiamo avanti in Europa, più riempiamo il calendario. E questo è vero, e credo che questa sia la cosa più importante, anche per il tifoso della Juventus, che se in Serie A, anche questo lo sappiamo, anche questo è inutile ribadirlo, ma non c'è quel fuoco, quell'ardore dentro di noi per quello che è successo, in Coppa Italia e in Europa League questo fuoco, questa fiamma, deve essere ben viva. La Serie A deve essere vista come una sorta di palestra, per quanto mi riguarda, dove comunque conseguire i risultati e quindi portare a casa punti, ma dove cerchiamo di mettere energia, mettere consapevolezza, cercare di migliorare i nostri limiti, che sono tanti, per poi riversare il meglio di noi nelle altre due competizioni, dove c'è la possibilità di alzare un trofeo. Questa credo che sia la giusta linea guida da seguire per quanto riguarda la Juventus in questo finale di stagione. La palla passa a voi, qui sotto nei commenti, noi ci vediamo domani con la probabile formazione, qualche informazione anche sul Torino e ovviamente la partita.